categoria juniores Gustavo Casado per una Cristina che salutiamo Cristina Marini un'altra Cristina che sta mettendosi a posto l'audicolare buonasera Cristina Pelli allenatrice buonasera a tutti eh esperta di questo di questo sport bellissimo che questa sera vediamo anche un po' eh diciamo così mixato con altre esperienze ma vedremo dopo abbiamo subito in pista un eh ragazzo che sicuramente farà parlare di di sé Gustavo Casado è un brasiliano ed è campione mondiale junior nella combinata quindi Brasilia che cresce è una giovane promessa del panorama internazionale oltretutto si allena in Italia spesso e volentieri pur essendo nel Brasile con Cristina Moretti di Firenze è un'atleta molto esplosiva molto garista molto entusiasta di fare questo sport e anche a questo campionato del mondo ha avuto un ottimo comportamento un ottimo rendimento. Noi come siamo messi con i junior? Noi siamo una cucina di atleti ad alto livello quindi ogni anno c'è sempre chi riesce a sostituire quest'anno avevamo Dario Betti nella specialità del libero che ha vinto il mondiale nella combinata non avevamo atleti avevamo solo obbligatoristi e liberisti e ci siamo comportati bene in entrambe le discipline perché con Porzi Simone abbiamo vinto l'obbligatorio e con Dario Betti il libero e lui nella combinata ha vinto l'oro e vediamolo all'opera Gustavo Casado brasiliano campione del mondo di combinata union a tutti i giorni l'incertezza iniziale poi è partito bene è un atleta che in pista vende sempre quello che fa Gustavo Casado grande energia signore e signori la coppia dei record campioni del mondo specialità danza Melissa Cominde Candido e Mirko Pontello Cristina tu ti intendi di campioni del mondo? Sì abbastanza Perché? Spiegaci perché a me piace l'alto agonismo e ho avuto la fortuna di poter allenare atleti che mi hanno dato la soddisfazione di vincere tanti titoli mondiali e poi sicuramente parleremo anche di quelli che hai in casa però per ora presentiamo la coppia danza Melissa Cominde Candido e Mirko Pontello è una coppia dei record hanno vinto quattro volte il titolo mondiale Sì sono molti anni che sono insieme ci sono veramente impegnati tanto andando anche in America ad apprendere le ultime novità hanno due coreografi di eccezione Sandro Guerra e Aldo Amadio i loro allenatori Monica Diorio e Paolo Colombo che si sono sempre impegnati molto hanno molta esperienza, molta maturità molto belli anche a livello estetico come scelte di costumi, musiche quindi non ce n'è per nessuno no piacciono molto e hanno dimostrato molta maturità tecnica e proprio espressione in pista e vediamo allora all'opera la coppia campione del mondo danza Melissa Cominde Candido e Mirko Pontello The subject for tonight's lecture is rhythm The beat And so tonight we say Hip hip, chin chin The rhythm section Hip hip, chin chin Hip hip, chin chin Hip hip hip, chin chin Melissa Comin De Candido e Mirko Pontello, ricordiamo, campioni del mondo 2005, 2006, 2009 e 2010, se non erro in mezzo c'è stato un po' il prenovinio degli americani? Sì, gli americani sono atleti bravissimi a livello tecnico, soprattutto negli esercizi obbligatori, secondo me non riescono mai ad arrivare a livelli dei nostri perché non hanno dei coreografi moderni e bravi che gli montano dei bei liberi a livello coreografico. Manderemo la cassetta di questa esibizione di Melissa Comin De Candido e Mirko Pontello. Beatrice Palazzi Rossi e Patrick Venerucci Ed ora Cristina parliamo di un po' di storia, questo signore tu lo conosci bene? Molto Conosci anche il codice fiscale, è il tuo marito diciamo, è Patrick Venerucci che invece questa signora Beatrice Palazzi Rossi e insieme sono gli atleti che mi hanno dato maggior soddisfazione Praticamente non ce n'era per nessuno, in un periodo ben preciso vincevano tutto Sì Ricostruiamo Lei è titolare di un bar a Rimini e ha deciso di gestire questo bar e di cambiare completamente vita Lui ha continuato con altre partner e altre esperienze Quest'anno hanno deciso di rimettersi insieme e mi danno un'emozione che nessun'altra coppia, nessun'altra dritta mi può dare In effetti io che ho seguito il periodo d'oro di questa coppia, le emozioni sono sempre quelle maggiorate E allora forse è meglio che noi stiamo zitti zitti e vediamo l'esibizione di Patrick Venerucci e Beatrice Palazzi Rossi E allora forse è meglio che noi stiamo zitti e vediamo l'esibizione di Patrick Venerucci E allora forse è meglio che noi stiamo zitti e vediamo l'esibizione di Patrick Venerucci E allora forse è meglio che noi stiamo zitti e vediamo l'esibizione di Patrick Venerucci E allora forse è meglio che noi stiamo zitti e vediamo l'esibizione di Patrick Venerucci E allora forse è meglio che noi stiamo zitti e vediamo l'esibizione di Patrick Venerucci No me ne fiusi Ma di sì, ma di sì No me ne fiusi 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 Cristina speriamo che non decidano di tornare all'agonismo puro perché sennò non ce n'è per nessuno esatto diciamo che loro hanno fatto un regalo alla storia del patinaggio e un regalo agli altri perché sennò Patrick Venerucci e Beatrice Rossi Palazzi esibizione dopo tanti anni esibizione qui a Sport per la vita che compie 26 anni di vita questa manifestazione tra sport e sociale qui con me un minuto solo ti rubiamo allora Paolo Crepa lasciamo per un attimo i pattini negli spogliatoi e parliamo di sociale abbiamo detto che Sport per la vita è anche sociale ed è anche un'occasione per ricevere quello che è il simbolo di Roseto degli Abruzzi la rosa d'argento vi dico che dal 93 questa manifestazione ha consegnato questo prestigioso premio a Mariele Ventre, a Cino Tortorella e poi a Gino Strada a Tiziana Ferrario e poi a padre Bernardo Rossi e tanti altri Renzo Arbore e lo scorso anno la squadra dell'Aquila Rugby martoriata dal terremoto quest'anno questa rosa d'oro dello sport per la vita va ad una associazione molto importante internazionale e qui insieme a me c'è un responsabile di questa associazione internazionale che è Francesco Storto buonasera buonasera a me mentre vediamo nelle immagini il presidente italiano Paolo Crepa ecco Francesco ci spieghi che cos'è Sport Meet Sport Meet è un'associazione che nasce come emanazione del movimento dei focolari ma con l'obiettivo di aprire quella che è l'origine dei movimenti focolari la spiritualità dei movimenti focolari a tutto il mondo dello sport e dialogare con la cultura dello sport nel mondo contemporaneo cosa può fare lo sport per il mondo? lo sport abbiamo bene in mente tutti quanto sia un elemento aggregante e proprio questa sua caratteristica lo rende un veicolo privilegiato di socializzazione e di per sé non ha un valore assoluto ma la sua capacità di aggregare le persone lo rende un momento importante per concretizzare la fraternità grazie a Francesco Storto quindi Sport Meet premiata dalla Sport per la vita e questa bella missione che Sport Meet, lo ricordiamo, porta avanti in tutto il mondo e quest'anno la scelta è caduta sulla raccolta di fondi per l'acquisto della nuova ambulanza della Croce Rossa sezione volontari di Roseto degli Abruzzi un grande applauso alla campionessa Deborah Sbey ed ora in pista una studentessa di ingegneria che diciamo così ha come hobby quello di vincere i titoli mondiali nei 25 junior l'ha vinto nello scorso anno, diciamo nel 2009, nel libero e quest'anno, nel 2010 o meglio, nell'anno appena passato ha vinto nella combinata parliamo di Deborah Sbey che tra l'altro abita e vive a Giulianova quindi a 7 km da qui un'atleta importante un'atleta che io stimo tantissimo che non si è fatta mancare niente diciamo che ha un tecnico di eccellenza la regina dei tecnici a livello internazionale che è Sara Locandro che è veramente un bravissimo tecnico e lei è una ragazza volonterosa, umile che ha lavorato tantissimo e tutto quello che ha guadagnato se l'è veramente meritato sudando, migliorandosi nelle magari sue pecche che potevano essere presenze, fotografie, patinaggi migliorata quest'anno molto anche in questo aspetto ed è un'atleta veramente tecnica che non lascia niente al caso molto precisa e molto garista e tutto ciò le ha permesso di raggiungere i livelli che ha raggiunto ma stimo veramente tanto e penso che abbia ancora tanto da dire allora noi applichiamo il silenzio che è di dovere per chi è bravo e ci godiamo l'esibizione di Deborah Sbey campionessa 2010 nella combinata mondiale e Maria grazie a plera Maria grazia plena Maria grazia plena Ave, ave dominus Dominus tecum Ave Maria Ave Maria Ave, ave dominus Diciamo Può migliorare ancora di più Si può sempre migliorare Però lei dimostra anche questa sera Ha presentato un doppio axel Tecnico preciso su quattro ruote Che in esibizione con gli occhi di bue Le luci soffuse non era facile Vuol dire che questa è proprio sicurezza tecnica di tanto allenamento Ed edizione Ecco la Debola Osbay Tra l'altro è una ragazza che stimo anche perché all'età di mia figlia è sempre gareggiato come la conosco proprio un atleta seria E fra poco vedremo tua figlia Sì Sì innanzitutto saluto tutti e ringrazio per l'invito perché per me è sempre un onore partecipare ad una manifestazione così importante Comunque il mio prossimo impegno sarà il Grand Prix a Firenze che vedrà sicuramente migliaia di persone e quindi spero di dare del mio meglio Adesso andiamo in onda con un pezzettino perché purtroppo i gruppi Cristina fanno sempre delle cose lunghissime Ma anche bellissime Perché non riesci a riprendere tutto l'insieme Esatto esatto Però questo Molto carino, coinvolgente Esatto Qui parliamo di Pinocchio, lo abbiamo visto, lo vediamo adesso Che piace a tutti i bambini, che coinvolge tutti E' fatto molto bene, bei colori, bei costumi Sicuramente coinvolge e piacerà sicuramente a Rosetto perché fa parte della loro società Esatto Anche perché loro sono i padroni di casa E Pinocchio è un tema che piace sempre Esatto, Skating la paranza di Rosetto e Magic Skate di Castelnuovo Diciamo così che praticamente da 26 anni fanno questa bellissima esibizione che tra l'altro Convolgono tutti i bambini, fanno divertire tutti, che è il principio tra l'altro dello sport Esatto Convolgere tutti e fare divertire E tra l'altro coinvolgono i genitori perché questi sono tutti vestiti fatti in casa come si dice I ragazzi sono fatti anche bene E' molto bene Benissimo Il nostro impegno è ben riuscito Quindi sicuramente complimenti a tutti quelli che hanno lavorato attorno a questo progetto E' infatti molto bello Adesso sfuggiamo questa cosa e torniamo con i campioni del mondo E' infatti molto bello Lunedì per cominciare bene Martedì non se ne può già più Ecco chi se il cuore non ti tiene C'è un segreto per tirarti su Giordani e di latino e di tassi Passa o stai Vesta e di sospensione Passa e di sospensione Passa e di sospensione Passa o stai Vieni a domani Domenica E domani è Già domenica Vieni a bambini E domani è Già domenica Ciao domenica, ciao domenica Ciao domenica, ciao domenica Ciao domenica, ciao domenica Per tutti c'è la domenica C'è un burattino là Un burattino come noi Vieni, sali sul palco Eccomi, chi sei? Io sono Pinocchio Sei un burattino Sì Ma non hai fili? Non li ha, non li ha Che nero, non li ha Sei fatto anche tu di legno? E sì, sono anch'io di legno E come voi tutti di notte sogno Senza guinzaglio io sto imparando Che oltre la piazza comincia il mondo Dici tutto, come hai fatto Insegnala anche a noi Liberatevi dai fili Vivere, vivere senza fili È il grande sogno del burattino Anche se qui non ci fa mancare il pane E cos'è questo trambusto? C'è una festa forse qui E chi è quel bell'imbusto? Quella faccia da rockstar Vieni a mettere zigagna nella nostra compagnia Fai il tivalli, fai gli fili Come fosse a casa tua Hai sbagliato l'indirizzo Qui la legge sono io Sei venuto a cercare vai E nel fuoco te ne vai No, no nel fuoco no Non voglio morire Non voglio morire Aiuto, aiuto A spar per la vita Il campione del mondo Andrea Barbieri 27 anni di Treviso Torniamo a parlare di campioni del mondo Andrea Barbieri Titolo mondiale 2009-2010 Quindi anche qui non ce l'è per nessuno No, non è bene Anche lui è un'atleta che conosco da tantissimo tempo Che ha sempre lavorato in maniera molto seria E con grandissima dedizione La sua allenatrice Anna Cocco Ha raccolto negli ultimi due anni Queste grossissime soddisfazioni Meritate È un'atleta molto completo Di bella presenza Tecnico Con grosse difficoltà E anche quest'anno È stato molto preciso Nei suoi programmi di gara E si è conquistato l'ulteriore titolo Vediamo cosa ci offre questa sera E anche quest'anno E anche quest'anno E anche quest'anno E anche quest'anno Grazie a tutti Di Cosette Da campione del mondo Difficoltà di altissimo livello E anche spettacolarità Perché il coreografo Sandro Guerra Di cui lui si avvale L'ha migliorato molto A livello di presenza Continuiamo a parlare di campioni del mondo Cristina Cristina Tu hai detto che questa è veramente Una esibizione bellissima Tu l'hai vista al mondiale Sì Da un po' di anni Hanno introdotto A livello Di campionati del mondo Anche queste discipline Dei gruppi E questo è un numero che a me è piaciuto tantissimo Ha vinto i mondiali Coreografo d'eccezione Sandro Guerra Che tra l'altro è un mio grandissimo amico E una grandissima persona Lo abbiamo citato più volte Però lo merita Lui dove mette le mani Si vede Perché è veramente bravo Estruoso Geniale E questo è veramente Un numero bellissimo Sono allenati da Federica Marin Anche lei è una mia grande amica Molto brava nel tenere uniti tutti questi ragazzi E hanno dato un'ottima prestazione ai mondiali Con atleti che hanno partecipato In vecchie edizioni anche ai campionati del mondo Singolarmente o in danza Ecco il gruppo è quello dello Zodiac Roma Roller Team E noi purtroppo anche in questo caso Dobbiamo sfumare Uno strappo Facciamo vedere qualcosa Andiamo avanti Perché sono performance molto lunghe Poco televisive E noi purtroppo anche in questo caso E noi purtroppo anche in questo caso Andiamo avanti Undiamo avanti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.